Buonasera a tutti, benvenuti alla centesima edizione di Start, 100 è un numero relativamente importante, siamo contenti di esserci arrivati, siamo contenti che voi siate con noi. Volevamo farvi un grande regalo, ve lo abbiamo anche già annunciato nelle puntate precedenti per questa centesima edizione, perché ve lo meritate per la pazienza, per la buona volontà, per tutto quello che succede in trasmissione, per la buona volontà. Purtroppo però non ce l'abbiamo fatta, io avevo un'idea ben precisa che era quella di darvi la doppietta Ferrari nell'ultimo Gran Premio. Guardate, noi di Formula Passion abbiamo fatto l'impossibile, abbiamo preso due punte di diamante, come Alberto Sayu e Gianluca Calvaresi, li abbiamo mandati lì, gli abbiamo detto tutto quello che dovevano fare, ma neanche morti ci sono riusciti. Quindi io mi tiro fuori da questo discorso, sono loro che hanno impedito di creare questa cosa, che io mi ero impegnato stupidamente perché dovevo conoscere quali sono questi due personaggi, quindi sono andati là, sono stati bene, hanno mangiato la paella, hanno fatto tutto quello che gli veniva in mente, ma non ci hanno portato la vittoria in casa. Quindi io mi scuso anche a nome loro, perché loro sicuramente non si scuseranno, ma questo regalo non ve lo possiamo fare. Bene, facciamo però un altro, che è quello della nuova copertina di Wes, un nostro lettore che ha fatto un'opera veramente eccezionale. Io l'avrei voluto avere tra noi stasera, ma come tutti gli artisti lui sta abbastanza dietro le quinte. Però voglio ringraziare Wes perché ha fatto un lavoro veramente molto bello. Con noi stasera ci sono i due reprobì, quelli che non vi hanno portato il regalo. Alberto, ciao! Ciao direttore, buonasera a tutti gli ascoltatori, buona centesima puntata di Start, ma come voi notoriamente sapete, io non essendo tifoso della Ferrari ho conferito nelle ore precedenti al Gran Premio con Mario Isola dicendo di portare delle gomme durissime per favorire la Mercedes. Parleremo anche di Mario Isola, di Pirelli, ne abbiamo da parlare, e anche Gianluca Calvaresi che è con noi stasera. Ciao Gianluca. Ciao Mauro, buonasera a tutti. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo intervistato due piloti, Gasly e Huckenberg che si sono eliminati dopo due giri, quindi un po' di sfiga l'abbiamo portata. E' andata ancora bene. Stiamo riusciti a intervistare Hamilton, ci è andata male. E' andata bene, vabbè pazienza. E salvo, salvo il nostro coordinatore, ciao salvo. Ciao direttore, buonasera. Io volevo dire soltanto una cosa che in realtà la copertina ce l'hanno regalata, non siamo noi che la regaliamo a loro, quindi noi accettiamo il regalo. No, no, ce l'hanno regalata, no, no, certo, hai ragione, hai ragione. Ma ecco, salvo con due genovesi qua. Eh sì, è difficile avere il contrario, probabilmente. Io volevo fare solo... Sì, dimmi, dimmi, dimmi. No, 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 volevo complimentarmi con Gianluca e con Alberto per le interviste che hanno fatto, perché insomma, se è così, sappiamo come fare per indirizzare i soldati occasionati. Adesso abbiamo le idee più chiare, abbiamo le idee più chiare. No, sì, direttore, volevo solo aggiungere una cosa che non è la prima volta che un intervista... No, ma non mettere in giro queste cose... Le ha messe in giro Calvaresi, si mette l'esperienza di queste cose. Mamma mia, mamma mia. Penso di così non posso dirvi, no, penso per voi, eh. Volevo dire però una cosa, perché in tutto questo, eh, lui mi ha ricordato e ci ha ricordato una cosa estremamente importante e lui ha detto, aspettiamo sempre il martedì, il martedì era il martedì di Autosprint, il martedì di Marcello Sabatini. Allora, io sono in colpa perché non avevo pensato a questo, ma sono dieci anni che ci ha lasciato Marcello Sabatini. Per me Marcello Sabatini, faccio solo un piccolo ricordo personale, ma perché io ci tengo veramente a farlo, è stato un personaggio incredibile, è il personaggio della febbre Villeneuve, è il personaggio che quando mi è sempre rimasto in testa, resta tuo il nostro cuore, cioè è quell'uomo che in qualche modo ci ha rimandato un'emotività della Formula 1 che forse stentiamo a ritrovarla. Lo so che aver messo Alonso nella centesima puntata non è piaciuto a tutti, ma è un po' un qualcosa che mi ricorda quello, che mi ricorda l'emotività, la voglia, la passione, al di là della ragione. Ecco, per cui voglio ricordare anche a dieci anni dalla sua morte Marcello Sabatini e non ringrazierò mai abbastanza Ugo Gamba che in questo modo, con questa assonanza del martedì, del famoso martedì di Autosprint me lo ha ricordato, quindi tante tante grazie Ugo Gamba e a presto. Detto questo, potremo anche entrare in argomento, ce l'avete un argomento? Beh, Autosprint no? Sì, Autosprint ragazzi, ma veramente siete una cosa. Allora di che cosa parliamo, parliamo della Pirelli? Perché poi quando dicono, vabbè, ma perché viene fuori Alonso? Ma meglio Alonso che parlare della Pirelli, perché se no veramente, se la Formula 1 è la Pirelli, allora è meglio che lasciamo perdere, eh? No, direttore, io infatti non parlerei, non inizierei a parlare di Pirelli, poi ne possiamo parlare, io parlerei di quello che ha fatto Mercedes questo weekend, perché o siamo così provinciali da pensare solo alla Ferrari, solo alla Pirelli, solo a Valentino Rossi, oppure se vogliamo parlare di sport, di Formula 1 e di motorsport in generale, dobbiamo prenderci cura di tutti quelli che sono i protagonisti. Ma ci conviene davvero, ma ci conviene davvero, secondo te, non lo so. Ma certo che ci conviene, perché onestamente quello è il bello, se dobbiamo rifarci esclusivamente alle fortune, sfortune, abilità o inabilità della Ferrari, secondo me rimane… Però voi eravate in pista, voglio dire, ma io che purtroppo non me lo posso permettere, guardavo la televisione, ho sentito parlare solo dell'altezza del battistrada, solo di quello, voglio dire. Quindi è importante che tu ci racconti che sono successe anche delle altre cose, perché devo dire che da quello che ho visto io era solo il problema delle gomme, anche il motore che si è rotto probabilmente derivava dalle gomme, voglio dire, no? Cioè mi chiedo, voglio dire, ma la Formula 1 è questa qua? Ma adesso io non voglio contraddirti, parliamo pure della Mercedes, però voglio dire, ma vi rendete conto che stiamo parlando di una Ferrari, il cui capo arriva bene e dice sì, ci hanno informato di queste gomme, però non ci hanno chiesto se ci piaceva o no, ma siamo nella demenza, cioè c'è un problema di comunicazione in Formula 1, ma io mi chiedo, ma alla Pirelli c'è qualcuno che ha una strategia di comunicazione, ma vedete che oggi è dovuto arrivare Tronchetti Provera, Presidente, facendo sua l'ipotesi Marchionne, ma se poi costa tanto me ne vado anche, per tentare di fermare questo tipo di casino gigantesco che il capo delle gomme, il caro Isola, il capo delle relazioni esterne che non mi ricordo chi è, voglio dire, hanno creato Bocafogli, non volevo dire il nome, ma adesso con tutto l'amore che io ho per Roberto, quello che ho su Dani, ma è comunicazione questa, ma questi qua in mezzo a una stagione di corse cambiano le gomme, io ci credo che non l'hanno fatto a Bella Mercedes, ma è peggio, perché se l'avessero fatta per la Mercedes ci sarebbe una ragione, magari gli facciam fare una fornitura di gomme per la safety car, che cazzo ne so, ma non è così, e questa è veramente una totale incapacità di gestione e di comunicazione, guardate che l'ultima notizia che abbiamo pubblicato noi pochi minuti fa di Tronchetti Provera che interviene nell'unico modo che sanno fare i capi azienda dicendo, beh ma se non vi va bene me ne vado, è una resa incondizionata della Pirelli in Formula 1, ma la Pirelli deve andarsene dalla Formula 1, non perché favorisce Mercedes, perché non è capace a fare il suo mestiere, non si può arrivare lì a dire a metà stagione limo il battistrada, ma che cosa dici? Per la sicurezza, per tagliare la testa a tutti? Ma piuttosto se c'è stato brutto tempo a Barcellona chiedi per la sicurezza, lo chiede alla FIA di fare un altro segmento di prova, un altro settore di prova e vai a verificare le gomme insieme ai concorrenti, ma questa è la Formula 1, non ci può essere un pazzo che improvvisamente cambia le gomme con la scusa della sicurezza, questo dico, poi non ne parliamo magari mai più della Pirelli, però questa è la mia sensazione. Ma direttore, io ti posso dire la verità, io sono molto più neutro in questa situazione, allora da un punto di vista comunicativo e gestionale sicuramente Pirelli ha sbagliato, punto, ha sbagliato probabilmente i metodi, i modi e effettivamente si poteva fare meglio, se Pirelli avesse detto… Ma scusami, ma allora perché sta in Formula 1? Ma se non ha questi elementi base grammaticali, voglio dire, della comunicazione vado a fare un'altra cosa, voglio dire, semplice. Beh direttore, comunque da che mondo è mondo, capita anche in Formula 1… Sì ma capita spesso alla Pirelli, la Pirelli si chiama Pirella lunga, Pirelli lunga perché gli capita lungamente, sempre gli capita, adesso ho capito perché quella P è così lunga, no? Perché è reiterato questa cosa, no? Pensate a quella cretinata dei discorsi con Mercedes per i test, quello che mi spaventa è che loro sono innocenti, fossero colpevoli, li capirei, sono innocenti, solo che sono incapaci. Ma direttore, io non sono totalmente d'accordo con te. Ma è giusto perché tu non lo sia, ci mancherebbe. Allora, che loro abbiano sbagliato la comunicazione, sono d'accordo. Che loro avrebbero potuto gestire la situazione in maniera probabilmente più intelligente, sono altrettanto d'accordo. Ma da qua a dire che per tutta questa situazione se ne dovrebbero andare dalla Formula 1, che sono degli incapaci, degli incompetenti, io personalmente non sono d'accordo. Beh, ma scusa, ma se una telecronaca di Formula 1 ha parlato solo di questo, c'è qualcosa che non va. Cosa si è andata a fare la Mercedes? Cosa si è andata a fare la Ferrari? Cosa si è andata a fare la Red Bull? Se io per un'ora e mezzo ho sentito parlare del problema del battistrada. Ma abbiato partita, c'è qualcosa che non va. Liberty Media si svegli in qualche modo, no? A meno che non sia lei che le prove, questo non lo so. Ma mi chiedo, c'è qualcosa che non va in questa Formula 1? Se la gomma è determinante, non può essere che quello che fa le gobe determini l'insieme. Che sia vero o finto, non mi interessa. La realtà è quella. Io ho visto un gran premio che faceva schifo, perché ho sentito, se io avessi stato forciato alla radio, non avrei mai immaginato che ci fossero delle macchine che si rincorrevano in pista. Ho sentito solo parlare delle mescole delle gomme. Non me ne frega un cazzo delle mescole delle gomme. Pirelli è un monomarca. Questi qua, se vogliono la sicurezza, facciano delle gomme sicure e chiusi. È un monomarca. Non devono fare le gare tra di loro a cercare le mescole per il secondo in meno. Non glielo chiede nessuno. Si sveglino. È sbagliato. Tronchetti Provera è dovuto venire fuori e fare una figura di merda, dicendo, ah beh, ma se è così poi me ne vado. Perché ci ha dovuto mettere un tappo. Hanno fatto una schifezza. Questa è la verità. Ma non perché hanno favorito Mercedes. Perché non hanno favorito nessuno. Mauro, Mauro, approfittiamo della presenza anche di Gianluca. Volevo sentire una persona tecnica importante. E non di parte come quello lì, Sayu è di parte, ci sa. Ma allora, direttore, però se io sono di parte, vi pazienza. Stasera, vette. Che gomme c'hai sulla macchina tu? Che gomme c'hai sulla macchina? Dimmi, dimmi, dimmi che gomme c'hai. Dimmi. Ecco, e adesso abbiamo capito tutto. Abbiamo capito tutto. E va. Non guido una Mercedes. Ho capito tutto. Ho capito tutto. Però, direttore, direttore, scusa, tanto per chiudere. Poi facciamo parlare Gianluca. Però, se io sono di parte, se qua, oggi Vettel ha fatto la prova comparativa in pista. Hanno provato le vecchie mescole e quelle che hanno usato nel Gran Premio. E Vettel, Vettel, colui il quale avrebbe perso il Gran Premio per colpa delle gomme, ha detto, eh, effettivamente Pirelli aveva ragione perché le gomme che c'è andato per la gara. Ma mi dai ragione? Ma ti rendi conto che mi dai ragione? Vettel, quando è sceso dalla macchina, che ha fatto l'intervista, ha detto, beh, ma tanto le gomme erano uguali per tutti. I problemi nostri erano altri. Quindi, voglio dire, ti dai perfettamente... Il problema è che la Pirelli non è in grado di stare in Formula 1. Non è in grado di gestire le gomme in Formula 1 perché la Formula 1 è comunicazione e la Pirelli sta alla comunicazione come a me il viaggio per Marte. Uguale. Mauro, ok. Questa è la verità. Che piaccia o no, per me è la verità. Però, direttore, se questo fosse un podcast non di Formula 1 ma di marketing e comunicazione, allora avrebbe senso tutta questa comunicazione. Ma la Formula 1 è marketing e comunicazione. basta. Non c'è altro. C'è solo l'osso che è un pochino fuori. Ma tutto il resto è marketing e comunicazione. Basta. Non c'è altro. E allora se uno va lì dentro, deve saper fare questo. Se non lo sa fare, che sia a casa. Se no inquina questo sport. Inquina il fatto che io mi vedo una telecronaca sui 0,4 mm di bassistrada che non me ne frega assolutamente niente. Io non voglio sentire una telecronaca dove si interpreta tutto quello che succede in pista perché c'è stato lo 0,4. Non mi interessa. Non lo voglio sentire. Voglio vedere la gente che guida. È una noia mortale. Ma si rendono conto di tutto questo? Ok. Ma Gianluca, noi da ignoranti in materia di gomme, per quanto ci riguarda... Ma bisogna essere ignoranti in maniera di gomme. Certo, proprio quello. Visto che io personalmente non ho neppure delle pirelli montate sulla macchina, quindi ho diritto di parole. Io c'ho Dallop, prova storica. Dallop, addirittura storica. Addirittura storica. Io ce l'ho alle gomme. Volevo chiedere, insomma... Salvo, chi costruisce la tua macchina? Di chi? Marchione, no? Marchione. Ai, ai, ai. Pagato. Il dottor Marchione. Pagato. 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 Vai. Vabbè. Gianluca, volevamo sapere, da ignoranti, sul tema, quanto, se secondo te questo 0-4 di battistrada, può veramente influire così tanto sulle prestazioni? Perché c'è stato chiaramente a un certo punto Hamilton, che nei primi giri dava un secondo al giro a Vettel, poi il divario si è un po' assestato sui 7-6 decimi al giro. È davvero questa la spiegazione, i 0-4 mm di battistrada che hanno dato tutto questo vantaggio a Hamilton? Allora, lo spessore della gomma è di pochi millimetri, circa 2-3 mm, quindi 0-4 è una quota importante del battistrada. A quel punto lì la gomma diventa più rigida e quindi cambia tutto un po' il comportamento della macchina. Inoltre, sappiamo benissimo che, o comunque forse ci ricordiamo, che a Barcellona qualche problema di blistering i team l'avevano avuto. È già a febbraio che faceva freddo, quindi avendo ridotto lo spessore della gomma, diciamo che il raffreddamento della gomma migliora, perché c'è meno gomma da raffreddare, quindi la temperatura rimane più omogenea. Dopodiché, è ovvio che le prestazioni cambiano, però i team dovrebbero avere tutti dei modelli matematici per prevedere il comportamento della vettura in funzione della variazione del pneumatico. Mi sorprende un po' che la Ferrari sia stata presa all'astrovvista da questo cambiamento, perché insomma, un po' di modellazione del comportamento della gomma ce la dovrebbero avere in casa. Mi sorprende che non ce l'abbiano. La cosa strana, secondo me, delle gomme è il fatto che le gomme gialle fossero più veloci delle rosse. Quello è un po' bizzarro. Sì, tornando un po' alla polemica, no alla polemica, a quello che dice Mauro su Pirelli, secondo me il vero imbarazzo, lo dicevamo anche con Alberto sabato, sabato sera al telefono, è che non tanto il discorso degli 0,4 mm, perché poi se è una cosa fatta per la sicurezza, quello che volete voi, va bene. Il problema sta nel fatto che in qualifica tre dei sei contendenti al titolo, o comunque dei sei contendenti alle prime posizioni, hanno deciso di utilizzare le gomme soft. Questa è una cosa effettivamente imbarazzante per Pirelli. Salvo, hai ragione, ma è imbarazzante per chi guarda. Perché non è possibile, la gente non può spiegarsi del perché la gomma prestazionale debba andare meno della gomma che dovrebbe fare più giri. Cioè c'è un qualcosa che non funziona nella gestione di queste gomme. È evidente che siano gli 0,4. Io vi dico, allora, tecnicamente, abbassare, ridurre il battistrada, vuol dire ridurre l'inerzia termica del pneumatico. Quindi, in qualche modo, abbassarne la temperatura. Perché la temperatura di un pneumatico deriva dal succedersi delle flessioni del suo battistrada. È chiaro che se io il battistrada lo abbasso, come dice Gianluca, diminuisco queste flessioni, diminuisco le temperature. Ma voi vi immaginate una persona che segue la Formula 1 e che dopo quattro Gran Premi, poi per tre Gran Premi ci vorrà lo meno 0,4. Per gli altri Gran Premi si tornerà prima. Ma questo è uno sport o è la pista di prova della Pirelli? No, però Mauro... Cioè, mi devono spiegare questo, non capisco questo. Mauro, però questa è una cosa che ci sta, questa cosa che dici, assolutamente. Però, di fatto, il vero endorsement, direi, del tutto inaspettato, l'aveva accennato prima anche Alberto, lo dà Vettel, quando oggi finisce i test, scende alla macchina e dice... Ma certo, ma perché Alberto sa la verità, perché, scusa, no, Alberto non sa un tubo, ma perché Vettel sa la verità, perché la macchina non funzionava, non andava, si sono persi completamente, hanno un motore che è andato in fumo, sono in un disastro. Il bello è che arriva bene a quel punto, perché io vi dico una bella cosa, arriva bene dopo la Ferrari in generale, dopo aver accettato questo discorso dei famosi 0,4 mm, è andato in giro a chiamare tutti i giornalisti, amici, dicendo diamogli addosso. E a questo punto gli ha fatto anche comodo, perché hanno avuto una macchina che ha fatto schifo e in quel modo lì hanno detto, ebbene, ma è colpa dello 0,4, perché la Formula 1 è questa qua, eh. Ma non l'ha detto nemmeno loro, l'han fatto dire, l'han fatto scrivere. Certo, sono andati a chiamarli uno per uno, ma la cosa bella è che finita la gara, scusate, finita la gara, quelli della Pirelli, i due della Pirelli che abbiamo innominato prima, sono corsi da tutti i giornalisti su cui potevano avere un minimo di peso, a dire avete visto le gomme, se no sarebbero state stessose, le macchine erano in parco chiuso, non le hanno neanche viste le gomme come erano ridotte, quindi veramente è una presa per il culo, è questo che io dico che non possiamo andare avanti così. Alberto? Ma no, io sinceramente, no, no, beh, ma io non voglio difendere Pirelli. No, 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 ma tu devi difendere, ci mancherebbe altro, se vuoi. Ma no, non voglio nemmeno, cioè, io reputo che Pirelli, già che ormai il BIP è andato, oggi possiamo dire quello che vogliamo, anche il cazzo se ne frega, con tutto il casino che fanno loro non sarà certo il casino che facciamo noi, che fanno un problema. In Pirelli hanno pestato una merda, punto. Eh, bene, questa è la cosa più bella che hai detto oggi, guarda, bravo, bravo, sintetico, bravo. Detto questo, ha sodato il fatto che a livello di comunicazione... Ma non è la prima volta, capisci? Voglio dire, è meglio che passeggilo da altre parti, voglio dire, no? Perché... Esatto, diciamo che il crisis management in Pirelli e la comunicazione non sono il top, punto. Detto ciò, parlando di Formula 1, sono andati lì e tutti più o meno avevano le stesse gomme. Anzi, tutti avevano le stesse gomme. Come ha detto Salvo, l'unica cosa che secondo me da un punto di vista sportivo è stato un attimino imbarazzante è stato il fatto che le gialle andavano come se non meglio delle rosse. Esattamente, esattamente. Ma altro punto. Detto ciò, e ora possiamo parlare, dopo 25 minuti di trasmissione, di quello che è successo in pista dal momento che erano tutti con le stesse gomme alla fine. La Ferrari non ha perso per le gomme, la Ferrari ha perso per mille motivi. Magari le gomme possono centrarci anche quel 10%, ma la Ferrari ha perso perché ce n'aveva di meno, perché dal venerdì non hanno capito come mettere in pista la macchina, perché sono stati inaffidabili e semplicemente perché alla Mercedes è andato tutto bene. Ha influito probabilmente di più il fatto che a Barcellona al 12 di maggio, al 13 di maggio, c'erano 15 gradi anziché 25. Quello, magari, è un aspetto che può aver favorito Mercedes. Però, dico, abbiamo visto, secondo me, un campionato abbastanza altalenante, in cui in Australia Mercedes sembrava irraggiungibile. Nelle tre gare in mezzo, Cina, Bahrain e Abacu, la Ferrari sicuramente andava meglio. Ora in Spagna abbiamo rivisto una Mercedes andare molto, molto bene, e questo ce l'aspettavamo. A Monaco probabilmente vedremo una situazione ancora diversa. Quindi è un campionato, diciamo, molto bello e di gara in gara non sappiamo cosa ci attende. Però, ecco, io il capitolo gomme, se già è stato noioso che ne abbia parlato Vanzini per un'ora e mezza, io eviterei di fediare i nostri ascoltatori con un'ulteriore mezz'ora di discorso gomme. C'è da dire, in effetti, che anche guardando quelli che sono i commenti, il terreno dei commenti su Formula Passion, è da due giorni che non si parla d'altro. C'è un articolo su, non lo so, su qualsiasi cosa, arrivano a parlare di Pirelli, complotto, eccetera. Ecco, bravo. Ma il problema è quello che volevo dire io. Ma perché la Pirelli va a finire che entra in un complotto? La Pirelli deve vendere le gomme, cioè, non capisco quello. Perché dobbiamo finire nel complotto? Perché gratuitamente finiamo nel complotto? Questo che non capisco, non aiuta nessuno, non facilita nessuno. Tutto quello che succede dietro le quinte non aiuta nessuno. Perché vanno tutti a cercare di mettere un tappo in un buco che non è più bloccabile, no? Ti ho detto, se deve venire fuori il povero, so che ti provera, mamma mia, dai. Vuol dire che l'hanno pestata bella, grossa. Ma perché devono pestarle? Ma la state attenti dove mettete i piedi, no? Eh, perché poi, voglio dire, le scuole saranno anche Pirelli, ma prima di pulirle tutte. Eh, direttore, però loro hanno provato, secondo me, a dare un colpo al cerchio, una alla botte, sicuramente. E se lo sono presi dietro, nella botte se lo sono presi. Vabbè, non parliamo più di gomme, ma è falso, perché ne continueremo a parlare all'infinito. Perché adesso c'è stato quello, poi ci sono ancora due volte che hanno quelle gobe, poi quando hanno le gobe. E quelli che vanno al bar, cosa cazzo dicono? Ma quello, direttore, quello che va al bar. Eh no, però secondo me questo è il tuo errore. Ma non è vero, perché autorizza solamente il tifo di Ubecero, c'è sbagliato completamente. Ma non è vero. Ma sì, ma... Secondo me, secondo me, come tutte le cose, può essere trattata in maniera assolutamente civile, con un confronto pacchiato e intellettualmente e ingegneristicamente avanzato, e non è il nostro caso. Se non è il caso del bar, della baruffa, di cui noi siamo esponenti di primo ordine, e comunque nel bar... Ma no, ma io voglio vedere il pilota, non voglio vedere gli 0,4, mamma mia. Uno normale... Ma ti rendi conto che il 90% del parco circolante italiano viaggia con le gomme lisce? Ma cosa cazzo vuoi che sappiano di 0,4 mm? Ma scendi sulla terra, tu sei un avvocato di grande rilievo, di grande livello, ma quelli normali come me sono tutti lì che vanno a vedere il tassellino della gomma e ho detto, oh cazzo, devo cambiare le gomme perché si... Ma dai, su, ma siamo sinceri, ma questi qua fanno il sesso degli angeli, sono dei rompicassi che non finiscono più, e poi mi dicono, mi dicono, eh ma parli di Alosso, Alosso, se non altro, è uno che c'era tre stagioni fa, nel senso di ieri, non di stagioni, e c'è ancora, ed è uno che c'è dentro, e dobbiamo andare a vedere se è quello lì, c'ha il baffo, non c'ha il baffo, c'ha la macchina, Verstappen porta via mezza ala, e la macchina va esattamente come prima, ma allora se io fossi un amministratore delegato di una squadra, scusate, ma quei 500 o 200 milioni che mi pigliate in Galleria del Vento, ma non è che vi mettete in tasca voi, no? Perché se la macchina va esattamente come prima, ma venite qua e dimostratemelo, guarda che io ne conosco uno, amministratore delegato, che ha provato a fare questo discorso, e gli hanno detto, va bene, ma se poi la macchina perde colpa sua, così si, che cos'è questa Formula 1 qua? svegliamoci, proviamo a guardarci dentro, perché qui c'è qualcosa che non va, Mauro, giusto una settimana fa, parliamo anche con Gianluca, delle modifiche alle ali 2019, e dai, adesso gliene tolgo, allora Verstappen, Verstappen ha fatto una prova in anticipo, gli ha fatto vedere che anche se è mezzala, ma dai su, siamo ridicoli, siamo, allora prima si fa una macchina che ha, è un sistema estremamente complesso e totalmente integrato, poi a un certo punto a metà stagione dico, no ma l'anno prossimo cambiamo l'anno anteriore, cambiare l'anno anteriore vuol dire cambiare interamente l'automobile, ma sono pazzie, siamo in un mondo di pazzi, poi forse Gianluca ne può dire più di me, perché è più tecnico di me, ma cosa vuol dire cambiare, cambiare un'ala davanti, cambi la macchina, non l'ala. Come dici tu, Verstappen ci ha fatto vedere i cambiamenti dell'anno prossimo, perché praticamente ha tolto esattamente quel pezzo, che non vedremo più il prossimo anno, quel pezzo che ha quella specie di gradinata, quindi la prima di dare al premio stavolta, sì, perché praticamente quella parte lì, come sai, non genera deportanza, ma serve solo a pulire flussi attorno alla ruota, quindi lui... Che è la Formula 1 di oggi, il tema è proprio lì, dei flussi che si chillano il fondo della vettura, certo. Noi pensiamo di guardare delle automobili, in realtà sono degli aeroplani, sono degli aeroplani gradosciati, certo, non c'è il problema è tutto lì. Quindi lui, infatti, anche Verstappen in conferenza stampa, dopo la gara ha detto, sì, avevo un problema di sottosterzo, quando ho perso quel pezzettino lì, poi ho fatto degli aggiustamenti, ha detto, ho fatto degli aggiustamenti con i settaggi che avevo in macchina, è andato tutto a posto, quindi, cioè... Vabbè, dai, ci siamo divertiti, va, sentiamo. Ti devo dire che ci sono tantissimi ascoltatori che nella chat di YouTube sono letteralmente invisibilio per il tuo stato di forma odierno. Sario Lombardi dice che il direttore si infuoca per qualsiasi cosa questa sera, è tornato ventenne, cioè... Ah, perché a me piace la Formula 1, perché è vero, hanno ragione, è mezzo secolo che vedo la Formula 1, mi dispiace queste cose qua. Mauro, ma no, quello che è Rosario Lombardi non sa è che tu hai 32 anni, quindi insomma... Certo, certo, ho 32 anni, ho moltiplicato, non saprei esattamente qual è il coefficiente di moltiplicazione in questo momento, ma ve lo saprò dire la prossima volta. È quasi coetaneo del Saiu, quasi, quasi. Quasi. Va bene, ragazzi, ragazzi, parlo con voi che siete stati a Barcellona, in sala stampa, avete seguito questo weekend, molto al ristorante, anche credo, è molto al ristorante, credo. Molto anche al ristorante, esatto. Ma è giusto, perché è lì che c'è l'umore della cosa, no? Esatto, la pancia del pancio... Tra l'altro, l'ultima sera al ristorante, molto al ristorante, anche credo. Sì, scusate. Cioè, cosa... Ci riascolti? Cioè, ti piace così tanto? credo che fosse Gianluca, va bene, non importa. Dicevo, gli piace talmente tanto questa puntata di Starter, Gianluca, che oltre che a partecipare la riascolta in simultaneo, bellissimo. direttamente. Il massimo, il massimo. Siamo dicendo che parlando di ristorante, abbiamo visto una cosa bellissima, l'ultima sera, un barista, bene anche troppo bello lui, spagnolo, spagnolo, che aveva praticamente una maglia di Valentino Rossi, quindi è una rarità. Va bene, Valentino Rossi è globalizzato, vale ovunque, certo, il Valentino Rossi c'è solo lui, certo. Va bene, stavano dicendo, scusate. Sì, no Alberto, volevo chiedere a voi, anche a Gianluca, che però lo vedo un attimino assente, quindi intanto parlo con te. Beh, colpa nostra per la verità. Sono qui, sono qui. Ah, ecco qui, ecco qui. E' tornato, è tornato. No, dico, a parte questa polemica sulle gomme, sterile. No, sterile non sappiamo, comunque noi l'abbiamo portata, diciamo, in grembo con grande onore, a testa alta, voglio dire. No, però, voi vi siete persi ovviamente la telecronaca, le telecronache italiane, quindi non avete sentito evidentemente parlare di 0,4 mm, siete stati in sala stampa, avete assistito a uno spettacolo, ragazzi, francamente, abbeguante, o comunque deprimente, avvilente. E qual è? Sì. No, il Gran Premio, il Gran Premio, il Gran Premio. Ah, il Gran Premio? Ah, d'accordo. Sì, sì, sì. Il Gran Premio in generale, dico, a parte quello che è successo in curva tre, al primo giro, poi, veramente poca roba. non è che Barcellona, non è che Barcellona storicamente offra dei Gran Premi memorabili, perché purtroppo la pista... Però l'anno scorso, due anni fa, era stata una bella gara. Sì, però complessivamente è una pista così conosciuta dai team, che possono girarci occhi chiusi i piloti, se guardiamo schieramente partenza, vediamo due Mercedes, due Ferrari, due Red Bull, le As, quindi non è che ci fosse tutta questa variabilità per aspettarsi un Gran Premio vivacissimo. Quindi, diciamo, a me personalmente la cosa non mi ha sorpreso, la mancanza di spettacolo. Su una pista dove i sorpassi sono anche piuttosto complicati, diciamo, le cose erano abbastanza nell'aria. Alberto, hai scoperto, al termine del weekend, che poco poco di Formula 1 forse ne avevamo capito a marzo, perché siamo tornati in Italia avendo delle idee... Sbandierando una superiorità Mercedes incredibile ed effettivamente sono passati un paio di telefonate dopo Sakir, dopo Bacu dicendo, eh, vai a capire che forse non è che ci avessimo visto tanto giusto e... quantomeno per quello che riguarda il Montmelò e i valori in campo... Sentite, ma c'è un problema effettivo di fragilità dei motori Ferrari, di problemi da quel punto di vista lì o no? Secondo voi? Secondo me la statistica al campione è troppo basso, sicuramente Raikkonen ha avuto due problemi abbastanza rilevanti, però bisogna ancora capire esattamente di cosa si è trattato, probabilmente il primo motore riusciranno a recuperarlo, bisogna... se questo problema sarà ricorrente oppure no, chiaramente non è un buon segno il fatto che abbiano rotto, però non mi sembra nemmeno di ricordare che abbiano avuto grossi problemi fino a questo momento con Ass o con Sauber, ecco, quindi direi che tutto sommato, sì c'è stato un problema questo weekend per Raikkonen, sarebbe stato meglio se non fosse accaduto, questo è evidente, però... sembra che il motore di Raikkonen non sarà recuperato. Esatto, esatto, sì sì, avevo letto anch'io la notizia, però sì, cerchiamo di avere un campione un po' più significativo, ora parlare di un problema sistemico alla Power Unit Ferrari mi sembra prematuro. Anche perché Ocon, se non sbaglio, ha finito la gara con il Mercedes. Esatto, quindi... diciamo uno a uno non tanto palla al centro perché in effetti un conto è quando si rompe un motore sulla Ferrari, un conto è quando si rompe un motore Mercedes ma sulla Forza India. Perché tu non lavori per Forza India, perché tu non sei Ocon. Perché io non sono Ocon e perché io ho la macchina comprata da Marchionne. Esatto. Però sentite, l'altro fenomeno è un po' Leclerc e la Sauber Ferrari in questo momento, o Alfa Romeo, o quello che sia, non so, è un po' l'elemento che contrasingue la stagione, notevole. Aggiungo soltanto una cosa prima che rispondiate, giusto per invertire il trend, avevamo sentito anche Leclerc a Barcellona, quindi ai test di Barcellona avevamo sentito anche lui, quindi tutto sommato invertiamo. Va bene, quindi insomma, sì, bilanciate. Abbiamo sentito anche Verstappen, Fodio. Anche Verstappen, va bene. Anche Ricciardo, va bene, vai, così è troppo facile però, eh, voglio dire. Anche Grosjani. Anche Grosjani. Va bene, quando parli con tutti, che avremmo parlato anche con Hamilton, e Vettel, solo che sono blindati. Questo segna anche come Formula Pesson sia importante all'interno del patto, che è bravi, siete bravi, capito? Eh, direttore, quando faremo Formula Pesson TV, avremo, o Pesson TV, avremo la possibilità di parlare con Hamilton. Ah, tu dici, tu dici finalmente? Eh, vabbè, pazienza. Magari con Alonso anche, prima o poi. Magari. No, dicevi Salvo, scusami. No, su Leclerc, risponde la domanda del direttore su Leclerc. Va, molto bene, secondo me, eh, è stato... Anche la macchina è incredibile, incredibile, incredibilmente, devo dire, io ero scetti con 10 ACP, che ragazzi, la macchina va benissimo. Effettivamente, anche lì, a inizio anno, la sensazione era, Williams e Sauber, assolutamente non competitive. e per quanto sì, Williams abbia i suoi problemi, Sauber spesso, eh, in qualifica non riesca a esprimersi al massimo, però, giochi secondo me, il livello della Formula 1, in generale, quest'anno è molto alto. È molto alto, è vero. tra la prima e l'ultima, in qualifica, ci ballano due secondi e mezzo. Anni fa, mi ricordo, di gap di 4-5 secondi. Quindi, abbiamo 20 macchine di Formula 1. Poi qualcuno... con la seconda parte dello schieramento, che ogni tanto si fa vedere davanti, ecco, è importante quello, è molto importante. E più che altro, si vedono anche, eh, nella seconda parte dello schieramento, raramente si vedono, due As, due McLaren, due Renault, esattamente, due Toro Rosso, due... esattamente. C'è, si mischiano, e quindi magari si vede, una Force India, settima ottava, e l'altra diciassettesima, e quindi, è bello vedere, che il pacchetto di mischia è molto competitivo. È vero, Per quello che riguarda le Clerc, sicuramente hanno fatto un lavoro eccezionale in Sauber. Hanno fatto veramente un bel lavoro. E lui, è finalmente riuscito ad adattarsi, sta riuscendo pian piano, ad adattarsi a quello che è la Formula 1. Ma è anche normale, è anche ragionevole, è anche giusto con pilota. E ha fatto anche abbastanza presto, eh, voglio dire. Ma infatti, ma è anche normale con pilota, per quanto talentuoso possa essere, abbia comunque un impatto con la Formula 1. È la Formula 1. Beh, ma deve essere così, è meno male, è meno male che è così, perché se no... Eh, se no di cosa stiamo parlando? Cioè, già non aveva avuto questo impatto, eh, in GP3, Formula 2, e ci stava. Eh, che, che, avesse, che arrivasse anche in Formula 1, dominando, comunque dimostrando di essere una spanna sopra gli altri, come ha fatto in Formula 2, ecco, sarebbe stato un po' preoccupante, quindi meglio così. invece ragazzi, eh, quello che è successo in Curva 1, con, cioè in Curva 3 in realtà, primo giro, con Grosjean, come è stata, come l'avete vissuta lì in Sala Stampa? Ma io, io lascerei qua la parola Gianluca, che era lì anche lui, non è che vi ho vissuto io, eh. Eh, no, no, certo, io, ne abbiamo parlato anche, in Sala Stampa appunto, cioè, Grosjean, per un incidente simile, o forse volendo anche più, 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 con meno cattiveria, che è quello che c'è stato a Spa, nel 2012, è stato squalificato per una gara, adesso, secondo me, ha fatto una cosa, persino peggiore di quella di Spa, e gli hanno dato un buffettino, di tre posizioni, di processione sulla griglia, no, no, cioè, secondo me, andava comunque, eh, squalificato almeno per una gara, perché quello che ha fatto, è stato, è stato gravissimo, tenere giù il piede, per cercare di raddrizzare la vettura, con cinque macchine, che ti vengono dietro, sapendo chi era in mezzo allo schieramento, quindi era chiaro che c'era gente da avanti, dietro, a destra, a sinistra, quindi non... È una cosa folle, Gasly, infatti, dal, sentito dalla, la team radio, era, dalla macchina, era abbastanza agitato, ovviamente, se è vista veramente brutto. lo credo, lo credo, l'altra parte. Però dall'altro lato, direi che comunque, eh, la buona fede di, di Grosjean non può essere messa in dubbio, nel senso, no, ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata, no, certo, certo, no, no, non l'ha fatto con dolo, no, però, però, onestamente, quella è un po' forte, è una cazzata, mi sembra, questo qui è uno che è in Formula 1, da quanti anni? È ormai da tanti anni, ormai da tanti anni, è una cavolata increscibile, sono d'accordo con dolo, però non gli hanno fatto nulla, va bene così, tre posizioni, e non farlo più. Sì, ma è la deriva, che va bene, noi l'abbiamo criticati prima, adesso Liberty Media è un pochino, più larga, diciamo, un po' più Formula Indy, diciamo così. Un po' più perdonista, sì, siamo passati dalle reprimelle, perché mi ha spinto fuori, push me off the track. Bravo, sì, bravo, esattamente. E bastava niente, erano noi in castigo, adesso possiamo fare così. pazienza, diceva bene pazienza, va bene. Ecco, teniamo le macchine in gara, prego, prego. Scusa, no, no, volevo un attimo rispondere a Simix Formula 1, che mi fa presente, lui, che effettivamente ci sono stati quattro secondi, tra il primo, tra la pole di Hamilton, e Stroll. No, d'accordo, ma il concetto era chiaro, però. ecco, tanto per precisare, in realtà, in Q1, quando erano presenti, sia Hamilton che Stroll, contemporaneamente, Hamilton ha girato in 17,6, e Stroll in 20,2, e quindi stiamo parlando fondamentalmente di due secondi e mezzo, largo circa, ecco, quindi. Comunque, il gruppo è sicuramente più compatto, la Sauber. No, e soprattutto ci sono degli scambi di posizione, all'interno dei due gruppi, diciamo, no? Di quello dei primi sei, e di quelli di dietro, ogni tanto qualcuno ci mette il naso, voglio dire. via. Però, ecco, diciamo, secondo me, la cosa più interessante è che effettivamente, dal settimo, quindi, parliamo delle AS un pochino, fino a quelli che, tendenzialmente, beh, le AS quest'anno vanno molto bene, le AS. Esatto, esatto, e anche le Williams, diciamo, sono già andati tutti a punti, eh, sono già andati tutti a punti, tutte e dieci team sono andati a punti, la Williams è decima, per adesso con quattro punti, e per anni e anni abbiamo visto squadre che, o non andavano a punti, o se andavano a punti, magari facevano un punto, in una gara bagnata, assurda, o a Monte Carlo, eccetera, eccetera, quindi, sicuramente. No, adesso lo fanno a Barcellona, vuol dire che se vuoi, è il circuito meno, meno, meno adatto, a fare quegli esploggi lì, no, no, esatto, direttore, secondo me, ti hai detto una cosa interessantissima, parlando di Sauber, a parte che sono andati a punti, in tre occasioni, su, eh, cinque gare, quindi nel 60% delle gare, sono dignitosi nel campionato, costruttori addirittura, eh, quindi. Dignitosissimi, ma a parte quello, a parte gli undici punti raccolti, probabilmente sono tanti quanti, poi mi riservo di verificare, io non so quanti punti abbia fatto la Sauber, eh, tra il 2016 e il 2017, però credo non tanti, non tanti più di undici, non tanti di più, no, se li hanno fatti undici, ma detto questo, hai ragione, hai toccato il punto fondamentale, Leclerc non è andato a punti solo a Bacu, dopo 18 incidenti, non è andato a punti a Monte Carlo, in una gara bagnata, non è andato a punti in una gara che hanno finito in undici, è andato a punti a Barcellona, che è la pista più veritiera, o una delle piste più veritiere, in una gara tutto sommato regolare, senza grossi colpi di sere. Come molto regolare è stato il duello con Alonso, voglio dire, no? Quindi ha dimostrato, non solo di essere veloce, ma anche quando è all'interno di un duello, di essere intelligente, voglio dire, ecco. Alberto, io parlerai di Alonso e della McLaren, facendo osservare che comunque sono stati doppiati, dalla Red Bull, con lo stesso motore Renault, nonostante la macchina portasse degli aggiornamenti importanti, praticamente quasi una versione B, eppure hanno fatto un po' una figuraccia, purtroppo, lo dico con rammarico, perché secondo me hanno fatto un bello sforzo di progettuale, però la macchina non c'è. E credo che la Honda avrà modo di sorridere di tutto questo, perché fra l'altro è sempre stata colpevolizzata al 100%, forse, 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 c'era anche qualche altro problema. Eh, comincia a essere evidente questa cosa. Ragazzi, invece volevo chiedervi qualcosa per quanto concerne la strategia di Vettel, perché hanno, in Ferrari hanno detto, chiaramente, sin dal primo minuto, no, noi non avremmo mai potuto fare soltanto una sosta, le gomme non si potevano gestire, eccetera, eccetera. E' davvero così? Oppure hanno cercato di mascherare, con questa scusa, un errore strategico abbastanza grave? Sì, sì, scusate. Ma la cosa più interessante l'ha detta Raikkonen, perché appena si è presentato ai microfoni dei giornalisti, il nostro collega, Gigi Perna, della Gazzetta, prima domanda ha chiesto, Kimi, eravate settati per un pit stop? E Raikkonen ha detto, sì, non c'è il minimo dubbio, questa è una gara da un pit stop e non era prevista o prevedibile nessun'altra strategia. Poi è arrivato Vettel, stessa domanda, e poi ha detto, no, ma no, ma noi fin dall'inizio, voleva anche Antonini, ha detto, no, ma fin dall'inizio c'era l'idea di fare due pit stop e allora abbiamo approfittato della virtual safety car per perdere meno tempo. Ora sembra che le gare si vincano, si perdano, solo esclusivamente pittando durante il regime di safety car o virtual safety car. secondo me in una pista come Barcellona la track position, la race position, vale 150.000 volte di più rispetto all'usura delle gomme e l'abbiamo visto nel momento in cui Lewis Hamilton, con quell'astronave di macchina che si ritrovava domenica, a gomme fresche, non è riuscito a passare per 4-5 giri Verstappen, il quale aveva gomme usate, una macchina decisamente meno performante. Quindi io non riesco a capire come si è venuta in mente alla Ferrari nel momento in cui A, riesce a partire meglio e ti metti dietro Bottas, B, miracolosamente, anche a causa di un pit stop abbastanza lento da parte di Mercedes, riesce a rimanere davanti a Bottas dopo il pit stop, cosa ti viene in mente di fare un altro pit stop? Secondo me lì hanno sbagliato la strategia e qua non è che stiamo facendo diciamo il gioco del senno del poi, stiamo semplicemente valutando quello che è stato fatto a bocce e ferme si è dimostrata la strategia sbagliata perché riseconda e finita la gara quarto. Quindi sicuramente... Questo può voler dire che ricompare quel fantasma del palcoscenico che ogni tanto insegue la Ferrari, no? Cioè tutto sommato sì, la partenza è buona, va tutto bene, poi comincia qualche dubbio qualche cosa? Ma no, io questo non credo, questo non credo, ora loro devono star calmi, hanno una buona macchina, devono svilupparla bene, devono star tranquilli, avrebbero potuto vincere di più anche per un pizzico di sfortuna, qualche errore di strategia, non ce l'hanno fatta, però no, io non parlerei ora di grosse problematiche. No, no, quello no, certo, certo, sì, critico. Però è strano, secondo me, il fatto come la squadra che in queste prime cinque gare, tutto sommato, la macchina... E' quel problema, poteva dominare, la macchina dominava, eh? Cioè, si sono fatti preferire in tutto e per tutto e poi hanno sbagliato praticamente tutte le strategie dall'Australia in poi, secondo me, hanno sbagliato tutte le strategie in tutte e quattro le gare. Poi, in Bahrain hanno vinto, non si sono fermati, ma in Bahrain hanno vinto, così non sanno nemmeno loro come hanno vinto oppure avendo una macchina che avrebbe dovuto dominare al Gran Premio. E' caduto un piatto? E' caduto un piatto, sì, non so. Possibile, possibile. Concludi, Alberto, prego. No, concludo che secondo me la... Sì, no, qua, chi ha fatto cadere il piatto lo dica, non so se c'è il piatto. Non sono io, non lo so. E chi è colpa, voglio dire. Quindi sarà uno che ha rotto il piatto, eh, voglio dire. Secondo me, direttore, il primo che canta è quello che ha fatto l'uomo. Eh, quello che ha fatto l'uomo, bravo, bravo. Infatti, ho sentito che era rigido. Concludi, ti ha detto, concludi e non rompere i coglioni, fondamentalmente. Era tutto inteso. Eh, no, perché era un piatto, era un piatto del servizio buono, eh, quello lì, voglio dire. E niente, cosa c'è da dire? Anche sarà stato, e qua, giustamente, in chat dicono, sarà stato Marchionna a far cadere il piatto. È la censura di Formula Pesco. È la censura di Formula Pesco. e sì, 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 l'ha rotto lui, l'ha rotto lui, alzò rompe anche la brocca, vedrai. Comunque, concludo, dicendo semplicemente che quando si ha comunque un vantaggio prestazionale come quello che la Ferrari tutto sommato ha dimostrato nelle prime gagne. È un peccato buttarlo via, certo, è un peccato buttarlo via, ma perché quando hai questo vantaggio ti devi inventare delle strategie da team minore, quelle strategie per cercare, non lo so, di fare la cosa strana. La Mercedes va con una strategia talmente lineare che è quasi ottusa, nel senso, a inizio gara questa è la strategia migliore, calcolata, la seguono, in Ferrari invece c'è questa improvvisazione, no? Facciamo, diciamo che ti va bene una volta in Australia e poi a quattro volte ti va male. È il famoso favolo strano, è il favolo strano, quello di Verdone. Che una volta va bene, ci sta, però sono le strategie che non lo so, mi viene in mente, può fare la Manor perché dice, tanto arrivare in un'esercizio, non conta niente, certo, non conta niente, non conta niente. Non sta piovendo, c'è il sole, metto le gomme da bagnato e tra due giri viene un tifone e magari arriva anche a Pucco. Esatto. Però se la Ferrari vai più forte, ma perché devi fare così? Lì doveva mantenere la posizione su Bottas e ciao, basta. Gianluca, vai, scusami, no? No, volevo dire che lì credo che questa questione delle strategie abbia un nome e un cognome che è Gnaci Rueda che è lo stratega della Ferrari che spesso è già da un paio d'anni che tenta sempre delle strategie un po' azzardate, già due anni fa la Ferrari qualche gran premio l'aveva perso per cercare delle strategie un po' bizzarre sulle gomme e secondo me qui hanno fatto un po' la stessa cosa. Hanno cercato qualche piccola pazzia per cercare di recuperare ma non dimentichiamo che Vettel non mostrava un decadimento dei tempi sul giro tanto da giustificare il cambio gomme quindi secondo me ci hanno un po' provato. Ma Gianluca, d'altronde i tempi di Raikkonen che è rimasto in pista altri 4-5 giri prima di ritirarsi, no? Pare che fossero abbastanza indicativi in tal senso per cui l'unica cosa che mi viene in mente è che loro abbiano cercato di evitare di respingere un eventuale undercut di Bottas e però Bottas non aveva la benché minima idea di andarsi a fermare per cui Io mi chiedo cosa sarebbe la Formula 1 se non avesse rinventato l'undercut perché l'undercut guarda è meraviglioso manca solo l'undertoppo e poi che si rincorrono tutte e due l'undercut e l'undertoppo e siamo a posto guarda l'undermaus eh mamma mia meraviglioso meraviglioso ormai l'undercut dovida completamente la scena della Formula 1 meraviglioso secondo me il 90% della gente me compreso sicuramente non ha ancora capito che cazzo sia ma comunque comunque l'undercut facciamo l'undercut cosa vuoi che ti dica va bene sono proprio vecchio i miei 32 anni lì si fanno sentire ormai eh sì è fatto va bene ecco ho visto anche qua non voglio tirarmi indietro davanti a quello che mi viene chiesto dal popolo dal popolo di Youtube il popolo sovrano mi chiedono cosa penso della grogianata di Ricciardo che in maniera ignobile in maniera ignobile chi l'ha chiesto chi l'ha chiesto eh devo mandarla a riprendere Vatna Daniel credo vabbè Daniel cioè cattivissimo ma giustissimo bravo giustissimo è bene ma cosa non so se sia stato lui aspetta lo andiamo a riprendere allora si palesi il genio che ha detto questa cosa si palesi ah ecco sì Vatna Daniel ecco l'ha fatto ha fatto imbarazzante però furbe deve avere qualche santo in paradiso qualche santo nella pompa perché non l'hanno fatto vedere in diretta non l'hanno fatto vedere in diretta quando Ricciardo si è girato come un po' no sotto in regime di virtual seppetica e gli è andata bene perché a Singapore si stampava contro il muro a Monte Carlo anche a Baku è libero lì ha perso 10 secondi ma di fatti con Gianluca e con altri colleghi in sala stampa diceva ma Ricciardo era lì a 5, 6, 7 secondi e non c'è più e non c'è più ma come ha fatto a finire a 20 secondi da Verstapp come diavolo fa e poi dopo si è scoperto l'arcano sì ma chi era chi era davanti al televisore non lo ha saputo ma l'abbiamo saputo la sera di domenica vedendo un video di un video su direi su Facebook su Youtube comunque sui social sui social media e niente gara gara pessima del del mio pupillo e vabbè può capitare può capitare anche Pro che è girato a Imbola nel giro di allineamento e quindi voglio dire può succedere capita anche non è che sei stato tu Alberto a chiedere alla FOM di occultare di posarti è il grande censore Alberto è un grande censore della Formula 1 moderna sono entrato con un piatto in regia l'ho fatto cadere è passato si sono girati un attimo e l'hanno perso esatto e io ho detto no no guardate è dritto sta andando sta andando ora come va deve aver avuto un problema con il Delta Time va bene quello che invece non vuoi dire caro Alberto perché so che non è parlato minimamente per tutto il weekend per tutto lunedì il martedì è che non vuoi parlare di Toto Coppini perché c'è qualcuno ma è presto è presto no i risultati del Toto Coppini c'è qualcuno ma c'era stata l'interruzione non so neanche se l'ho fatto direttore è vero c'era stata l'interruzione quindi a monte come si fa a fare il Toto Coppini senza Coppini mi piace che proprio stavolta quello lì purtroppo è colpa mia è colpa mia ho avuto un'interruzione esatto il Toto Coppini abbia beccato il primo secondo e terzo posto e non conta il Toto Coppini interruzione perché lo sospendiamo lo sospendiamo lo riprendiamo martedì dai senza Coppini perde eh no che senso ha scusa hai vinto sei campione mondiale del Toto Sardino ma che poi anche io e Calvarese eravamo andati abbastanza bene direi sì sì io ero se Vettel non si fermava non faceva quella cavolata è bene e se l'abbiamo portava le ultime opt che aveva detto Primo Raicon il secondo Vettel ora era lì a stappare Champagne e invece no già che siamo in chiusura l'ultima cosa abbiamo visto Melbourne e Barcellona piste Mercedes o meglio dove la Mercedes è andata forte Baku Bahrain Sakir sono state piste Ferrari Monte Carlo come la vedi perché poi i nostri ascoltatori vogliono sapere questo Monte Carlo è la pista è la pista di tutti può succedere di tutto prestazionalmente poi è chiaro che può succedere di tutto ma da un punto di vista di prestazione beh io credo che lì la Ferrari potrebbe andare bene anch'io anche perché comunque a parte che parleremo ancora di gomme perché avremo il debut delle Microsoft esattamente esattamente però credo che la Ferrari potrebbe comportarsi bene penso di sì penso di sì con tutte e due le macchine onestamente sì sì lo penso anche l'anno scorso erano andati molto bene e lo erano andati bene non c'era dubbi secondo me Monte Carlo è una pista posto che esistano ancora le piste favorevoli ma secondo me sì è favorevole per la Ferrari penso di sì Simix F1 dice che Monte Carlo è la pista di Alonso ma può fare bene ma può fare bene anche lui certamente ma poi cioè qualcuno ha detto ah beh ma Alonso tanto poi sì lo stava con Leclerc ma io non voglio dire che Alonso è il miglior pilota del mondo devo dire che anche ai ragazzi fa molto bene lottare con un pilota di quel genere lì non il miglior pilota bene ma il concetto è quello anche per i giovani è bene confrontarsi con un pilota di quel genere perché gli dà una dimensione gli dà una moralità un'eticità cioè non è tanto problema Alonso può andare forte o piano non lo so ma porta in Formula 1 una parte della storia della Formula 1 che è importante non perdere ecco tutto lì va bene va bene va bene ragazzi direi che siamo giunti alla fine alla conclusione e allora e allora arrivederci a tutti a salvo a Gianluca naturalmente Alberto e ci vediamo la prossima volta ricominciamo da 0 sarà la 1 o la 101 vediamo decidiamo durante il viaggio ma cosa allora no direttore ma no 101 e dobbiamo rigiovanirci non possiamo mica invecchiare in quel modo lì cambiamo nome eh vediamo ci pensiamo ci pensiamo però direttore ci potrebbe stare dopo una puntata così dovremmo fare alla Rosner basta ci ritiriamo e iniziamo ci ritiriamo e andiamo tutti alle Bahamas va bene un'altra puntata così non potremo farla mai più ma chi l'ha detto e chi comunque chi vuol vedere come venga alla 101 che ne vedrà delle belle arrivederci a tutti un abbraccio a tutti e grazie grazie ancora arrivederci ciao 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 buonanotte grazie a tutti